La curva torna in pareggio sul territorio pelinio-sangrino, ancora alle prese con i virus del post-emergenza e con l'ondata estiva. Sono 43 nuovi casi di Covid-19 messi a referto sull'intero comprensorio, che salgono a 48 se si contano le 5 reinfezioni inserite nel bollettino. Questa è la mappa odierna del contagio. 22 casi a Sulmona, 5 a Prato-la-Pelinia, 2 ciascuno a Scanno-Rocca-Casale-Rocca-Pia, Introdacqua, Castelvecchio-Subecco e Casteldisangro, un caso a testa per Secinaro, Roccaraso, Raiano, Pettorano-Suggizio, Pescassero, Ligoriano-Sicoli, Corfinio, Casteldieri e Bugnara. Una rilevazione pienamente sovrapponibile a quella dello scorso 17 giugno, quando si registrarono proprio 48 casi autottoni, senza cioè la refertazione delle positivizzazioni. Dopo due settimane di trend in crescita arriva un primo timido segnale di respiro, anche se la circolazione del virus continua ad essere comprensoriale e massiccia sul territorio. Complessivamente sono 549 gli attuali positivi a fronte di appena 28 guarigioni messe a referto. Un trend non proprio incoraggiante, vista la forbice sbilanciata sui nuovi casi e sulle nuove infezioni. Confortante il parametro delle ospedalizzazioni con i ricoveri che risultano quasi azzerati in centro Abruzzo. Gli attualmente degenti restano tre e tutti in area medica e l'effetto della lunga campagna vaccinale, della forma leggera, delle infezioni estive.